benvenuti ragazzi oggi vi farò vedere una clip universale con gli obiettivi per i nostri smartphone abbiamo la nostra malletta dove andiamo a fissare l'obiettivo l'obiettivo fish eyes e l'obiettivo che fa sia da grand'angolo che da macro eccolo qui un funzionamento semplice basta avvitare il nostro obiettivo e una volta montato andiamo a metterlo sul nostro smartphone regolandolo con questa malletta qui qua abbiamo un po di feltro che tiene insieme il tutto e lo andiamo attaccare sulla fotocamera in questa maniera vedete bisogna trovare il giusto buco e rimettere la messa a fuoco eccolo qua adesso vi farò vedere i vari obiettivi come funzionano questa è l'ottica fish eyes adesso l'ho zoomata un pochino per farvela vedere questo invece è il macro se si riesce a stare più fermi di me il risultato risulta comunque ottimo discreto poi dipende sempre dalla telecamera del telefono questo è uno dei due obiettivi insieme a fish eyes che mi ha deluso in quanto non è che aumenti molto il grand'angolo della fotocamera quello che mi è piaciuto di più è il macro tutto oh no Grazie per la visione!